Sono Pagani Roberto, ho 29 anni, mi sono laureato in Ingegneria dell'Automazione Industriale e ho appena concluso il mio percorso di dottorato nel 34esimo ciclo. Il gruppo di ricerca con cui ho lavorato è quello di meccanica applicata. L'attività di ricerca è nata dalla collaborazione con un'azienda cinese, la EFORT Intelligent Equipment, la quale ci ha fornito dei robot industriali per validarne le performance e fare degli studi principalmente sulla modellizzazione dinamica e in special modo la caratterizzazione della componente d'attrito in relazione alla temperatura. Dai risultati ottenuti siamo riusciti a stimare con buona accuratezza l'attrito presente nei giunti robotici e ad inserire questa stima all'interno del modello dinamico completo del manipolatore. Questo può essere molto utile per la realizzazione di applicazioni le quali lo sviluppo di sensori di forza virtuali, la rilevazione degli impatti oppure anche per la manutenzione predittiva dei componenti all'interno del robot.